La Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Camerota, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Dianio Alburni, la Camera di Commercio di Salerno presentano Viviamo Camerota 2014, mostre, spettacoli, festival, tradizioni, cultura, gastronomia, rassegne, teatro. Dal 25 al 31 agosto Festival dell'Animazione, sulla terrazza Simon Bolivar di Marina di Camerota, il 25 agosto L'Happy Village, il 26 Arco Naturale, il 27 il Black Marlin Club, il 28 Touring Club Italiano, il 29 il Blue Marine, 31 finalissima. Festival dell'Animazione, quinta edizione, tutte le sere a partire dalle ore 22 sulla terrazza Simon Bolivar a Marina di Camerota.